Ennesimo episodio di intolleranza in provincia di Caserta. Un migrante originario della Guinea di 19 anni ha denunciato ai carabinieri di San Cipriano d'Aversa di essere stato ferito al volto da un piombino. Il ragazzo ha riportato una ferita al labbro, giudicata guaribile in un giorno. Ai militari ha raccontato che nella serata di giovedì stava rientrando al centro di accoglienza Don Bosco, dove risiede, quando ha sentito prima il rumore di un ciclomotore e poi uno scoppio. Un attimo dopo è stato colpito da quello che ha descritto come un piccolo piombino. Il giovane non è stato in grado di vedere i suoi aggressori né il tipo di arma usato, che potrebbe essere una pistola ad aria compressa. L'episodio, riferito dal 19enne al vaglio dei militari, sul caso indagano i carabinieri di Casal di Principe. Un episodio simile era avvenuto lo scorso 11 giugno a Caserta, dove due giovani ospiti di un centro di migranti erano stati raggiunti da alcuni colpi di pistola ad aria compressa al grido di Salvini Salvini.